ciao ragazzi un saluto da pepin367 ora vi farò vedere il mio account che ho sullo smartphone del biliardo uno dei migliori biliardi dove è parecchio tempo che non ci entro infatti sono solo a 28 come come stella sull'ipad sono quasi a 100 questo qua lo uso come secondario ogni tanto lo uso quando sono in giro ma infatti non ho stack e che non ho che ho non ho tanto che tante diciamo andiamo a riscuotere che è un po che non ci gioco vediamo se ci sono dei premi da riscuotere allora abbiamo già forse abbiamo abbiamo un po di cose da andare ecco qua noi abbiamo già riscorse tutte queste niente pensavo che avevo da riscuotere un po di cose invece niente perfetto possiamo iniziare a farvi vedere una partita di come funziona facciamo una amichevole tranquilla giusto per come dimostrazione visto che qua ha pochi soldi pochi crediti diciamo vedete in alto a destra ecco sto qua più o meno 29 è la pari a me allora le regole le sapete bisogna spaccare posizioniamoci qua e dove rompe meno le scatto ok allora ho buttato dentro le piene quindi andiamo avanti con le piene allora andiamo avanti con le piene io direi di passare con la violetta qua scusate se mi vedete storto però io con la testa devo girarmi perché se no non vedo ecco avete visto infatti mi va bene lo stesso che bus se no non mi vedevate con la testa ok ora andiamo con la gialla no la gialla no la marrone questa la buttiamo qua tranquillamente devo scostare ok bella lì si butto pure una delle sue ma fa niente poi buttiamo la gialla perfetto ora buttiamo la verde ok adesso è un po più difficile proviamo così ma infatti tocca a lui vediamo un po cosa combina philips all americano questo infatti stati uniti immaginiamo e bravo e la va sbagliare o che fortunello di uno vediamo un po dai però sei lento ragazzo e volevi di sponda guarda che quasi me la mette ok facciamoli vedere come si fa va visto questo ragazzo qua vuole eccolo vediamo un po la ro mi sono inguaiato da solo non riesco più a toccarla rossa è l'ultima che mi manca la proviamo di sponda e infatti ciao ciao oh magari la tocco guarda che la tocco oh l'ho toccata senza far niente ma l'ho toccata ora tocca a lui vediamo un po cosa combina io butterei la viola bravo infatti la viola è la più semplice io butti no così non vado ma che cavolo oh la nera beve oh mamma mia stava bevendo cioè ha bevuto ma stava buttando pure la nera vabbè direi che comunque posso buttarmi il pallino possiamo far così così poi andiamo tranquillamente a buttare la nera quindi facciamo così guarda così poi buttiamo la nera dentro ok la nera la buttiamo sotto dovrebbe entrare ok se non bevo pure io no perfetto ok ragazzi un po che non giocavo con il cellulare è un po piccolino però abbiamo vinto lo stesso dai bella lì usciamo è la giusta dimostrazione per farvi vedere il giochino e da Papin307 è tutto ciao ragazzi